Lavoro in corso nella caserma dei Vigili del Fuoco di Adrano da tempo necessitante di opere di manutenzione straordinaria, una problematica quella delle condizioni malandrate della caserma adranita, che era stata denunciata anche dal sindacato USB Vigili del Fuoco Sicilia e che adesso verrà risolta con la realizzazione di questi interventi, resi possibili dal finanziamento di 80.000 euro, concesso dall'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità dell'ex governo musumeci su deliberazione dell'amministrazione comunale. All'indomani dal Via ai Lavori, Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale di USB Vigili del Fuoco Sicilia, nel ribadire l'importanza di questi interventi di manutenzione, ha sottolineato anche come altre strutture tra le quali Paternò necessitino di simili interventi e su questo il sindacato continuerà a insistere. Finalmente partiti i lavori al distaccamento di Adrano, grazie al fondo messo a disposizione dalla regione siciliana con 80.000 euro del comune di Adrano, dopo tante denunce da parte di questa organizzazione sindacale, USB Vigili del Fuoco Sicilia, che denunciava la carenza igienico-sanitaria e di sicurezza all'interno del locale di staccamento. Sicuramente andrebbero messi anche rallentatori ottici e sonori all'esterno del distaccamento, per la poca sicurezza dell'uscita dei mezzi di soccorso e anche perché in concomitanza c'è anche una scuola e dovrebbe essere messa in sicurezza con questi rallentatori. Sicuramente rimaneremo sul pezzo anche sul Paternò, dove ancora nulla è stato fatto di quello che era stato promesso dal sindaco. Noi come organizzazione sindacale, sia a Catania che in tutto il resto della Sicilia, vogliamo che ci siano delle sedi sicure e vogliamo che ci sia rispetto per i Vigili del Fuoco che quotidianamente si impegnano per portare soccorso alla popolazione e di conseguenza anche quella popolazione merita un soccorso degno della propria cittadinanza. Pertanto come organizzazione sindacale rimarremo sempre sul pezzo per far sì che così come sta accadendo da Trano accada anche negli altri distaccamenti del territorio siciliano.